amiche ed amici digi case benvenuti o bentornati al nostro canale youtube digi case guardate dove vi porto oggi sono qui ad ardesio davanti al monte secco una delle viste che ormai avete imparato ad amare a conoscere beh in questo momento tutto il verde più bello che c'è qui la primavera ormai sta cavalcando l'onda e stiamo arrivando quasi all'estate guardate vi porto in questo appartamento come vedete con la tenda proprio perché siamo esposti a sud come vedete io sto registrando prestissimo al mattino sono le 9 del mattino abbiamo già il sole che farà l'arco sopra il monte secco per poi tramontare di là verso il centro di valcanale verso il paese di valcanale io mi soffermo un po' su quella vista incredibile che c'è vi faccio assaporare anche un po' i sentieri là c'è un cavallino insomma è un luogo davvero magico sotto casa poi passa assolutamente un sentiero che va avanti fino a valcanale fino a tutte le camminate più belle che ci sono tutti i rifugi ormai è il periodo più bello dell'anno e quindi vi aspettiamo vi ricordiamo che riceviamo tutti i sabati e tutte le domeniche mattine quindi chiamateci allo 0346 23933 io sono stefano e ora vi porto all'interno di un trilocale su due livelli con box a 83 mila euro con il doppio bagno quindi venito con me entriamo nell'appartamento eccoci innanzitutto qua ci troviamo sulla via vallass siamo al civico numero 7 ok siamo proprio sulla strada principale che porta valcanale e qui siamo al primo piano portoncino blindato di ingresso ed entriamo nell'appartamento siamo subito in un disimpegno come vedete un disimpegno con il suo calorifero per togliere il freddo all'ingresso quando sarà inverno e poi ci accoglie queste travi a vista e questo bel soggiorno con angolo cottura proprio qua alla mia destra come vedete una cucina angolare con tutto quello che serve vi ricordo che qui sono già riscaldamenti autonomi e a metano come vedete addirittura questa questa soluzione ha anche un bel camino angolare e vi faccio subito la carrellata verso il balcone per farvi capire dove era iniziato il video eccoci qua questa è la vista clamorosa che c'è dal dal balconcino ed eccoci qua vi faccio vedere la zona giorno anche dall'altra parte così vi rendete conto il tavolo ora è messo sotto lì ma chiaramente spostandolo quando è il momento di mangiare non c'è nessun problema guardate che belli che sono i pavimenti vi faccio vedere anche il dettaglio del camino un cammino bello angolare in pietra e legno questo è un divano letto matrimoniale molto ampio e questa è la scala che porta alla zona mansardata completamente abitabile ecco il secondo bagno addirittura sopra io intanto prima di farvi vedere il sopra vi faccio vedere ancora la zona dell'angolo cottura eccola qua qui abbiamo la porta a scomparsa che chiude la zona la zona giorno dall'ingresso e quindi dal disimpegno del bagno questa è la porta da cui siamo entrati da qui abbiamo una bella un bel bagno finestrato mi si è aperta la porta un bel bagno quadrato finestrato dove abbiamo un grande box doccia stavolta davvero è a prova anche di persone un pochino robuste come me quindi un bel box doccia da 90 per 90 water bidet lavandino l'attacco della lavatrice vedete la lavatrice e il la sua caldaia autonoma a metano questa è invece la finestrella che guarda verso il paese verso la frazioncina qua questa è la strada vedete che va verso valcanale rientriamo e andiamo avanti nella nel giro dell'appartamento del questo bellissimo trilocalino quindi zona giorno col suo bagno che può anche ospitare due persone il balconcino che abbiamo visto con la sua tenda perché è esposto a sud ecco qua essi mi sto girando verso est ora siamo verso sud il monte secco e poi di là ovest verso valcanale verso il paese di valcanale guardate che bello che è anche la parte est quindi verso il paese di ardesio il fondo valle il paese di ardesio è a neanche cinque minuti da qui andiamo su a vedere la zona notte la zona notte la zona notte vi ripeto abitabile allora gradini quindi scala normale in legno molto ben tenuta qua sopra arriviamo in un disimpegno vedete qua c'è un disimpegno con tre porte entriamo prima in quella che è la camera matrimoniale tutti gli effetti guardate quanto è alta qua addirittura c'è un attacco di una potenziale altra stufa ma chiaramente non serve sotto la finestra vedete ci sono i caloriferi eccola qua il letto matrimoniale un letto molto alto guardate che bello anche l'armadio tra via vista e come vedete la finestra che guarda verso l'ingresso quello il cancellino di ingresso dovete il mio dito e qua si scende e c'è un box singolo ecco la vista anche da questa angolazione c'è anche una cassettiera per farvi capire che gli spazi sono assolutamente comodi non c'è nessun problema quindi una bella camera matrimoniale con la sua porta scomparsa porta scomparsa dappertutto da qui arriviamo alla seconda cameretta guardate che bella una cameretta che fa da studio da per ospitare anche amici figli nipoti eccola qua il secondo letto estraibile quindi diventano due lettini avete le grandi altezze e la cosa bella è che da qui abbiamo un secondo balcone proprio da questa zona vedete guardate che bello il balconcino e guardate dove siamo mamma mia uno spettacolo inutile a dirvi che è un luogo magico io che ho la fortuna di essere qui anche se in solitudine a registrarvi questi video provo davvero molta pace soprattutto c'è un'aria che si respira spettacolare spettacolare eccolo qua ancora il balcone la seconda camerettina e la cosa bella è che abbiamo il secondo bagnetto quindi un bagnettino davvero per la notte è vater e lavandino vedete col mobiletto ma utilissimo utilissimo per per la notte quindi per evitare di scendere se dovesse servire durante la notte eccoci qua torniamo ancora all'uscita farvi vedere questa carrellata di verde che vi investe beh che dire grazie grazie davvero a tutti vi ricordo questa soluzione trilocale col doppio bagno doppio balcone ad ardesio in via vallasa 83000 compreso di box e arredo la casa è davvero pronta per ospitarvi basta davvero entrare con le valigie e la casa è vostra vi ricordo ancora i contatti il mio diretto 320 033 4332 io sono stefano anche tramite whatsapp o in ufficio allo 0346 23933 grazie davvero a tutti buona settimana un caloroso saluto da stefano e da tutto allo staff di casa